Ars Florence è un'azienda di Barberino del Mugello che esiste da oltre 60 anni. La produzione si distingue per la scelta accurata dei materiali, pietre e metalli e per la lavorazione artigianale e unica che Ars Florence riserva ad ogni gioiello e ad ogni accessorio che produce. I prodotti creati da Ars Florence contribuiscono a realizzare gioielli, bigiotteria raffinate e originale, accessori per alta moda, per abbigliamento, pelletterie e calzature. La ricerca continua dei materiali particolari per creare le produzioni di Ars Florence va di pari passo con la lavorazione e la manipolazione degli stessi. Tanto che il direttore creativo ci spiega che le pietre e i materiali non lavorati vengono trasformati dalla cosiddetta manipolazione straordinaria del laboratorio di Barberino. Per Ars Florence infatti un punto di orgoglio è che la lavorazione e la creazione dei gioielli e degli accessori, in particolare fibbie per cinture, sia fatta completamente in Italia a Barberino dalla propria modelleria. La particolare lavorazione delle pietre e dei metalli fatte dall'azienda contribuisce a realizzare fibbie metalliche per calzature e pelletteria, per borse e per cinture. Inoltre le pietre cosiddette manipolate si utilizzano anche per creare tomaie per sandali e scarpe gioiello. Non è dunque un caso se per Ars Florence, l'azienda leader che collabora con i più grandi marchi, lo slogan di casa è la modelleria agile e dinamica crea delle pietre assolutamente uniche.